Edizioni musicali Casa Dei Sonora presentano Romagna Mia Classiche, un programma di musica e spettacolo. Buon divertimento! Eccomi qua! 3, 2, 1, si parte! Anzi, come diceva Nonno II Casa Dei, fuoco! Cari amici, diamo subito un ben ritrovato a tutti quanti voi, ricordandovi che siete in collegamento con la Romagna, ci troviamo negli studi di Cesena e insomma apriamo subito col ricordarvi che questo programma è un prodotto delle edizioni musicali Casa Dei Sonora. Le immagini che insomma andremo a gustarci insieme sono immagini d'archivio, sono immagini tratte da Youtube, sono immagini tratte dall'archivio Casa Dei Sonora. Cerchiamo di accontentare tutta la fascia del pubblico che ci segue da casa e insomma se avete qualche richiesta, qualche consiglio potete farlo insomma scriverci a infochiocciolacasadeisonora.it Adesso entriamo nel vivo della nostra trasmissione cataputtandoci direttamente nel tempo, nel 1993 a gennaio precisamente nel teatro moderno di Stavignano sul Rubicone e apriamo così questa puntata con un personaggio speciale, Tony Binarelli. Che hai studiato? Che hai studiato con un'amica così sia in due e mi serve un ragazzo, ecco quello 1, 2, 3, 4, 5, tu, esatto. Facciamo un applauso, come ti chiami tu? Barra, barra, perfetto. Tu invece? Alice. Alice. E tu? Simone. Simone ti dovresti mettere dall'altra parte. Allora voi farete con me un gioco, vi dimostro che la magia è facile, non ti metti subito a vicino alle donne, Simone. Allora innanzitutto parliamo di carte da gioco, tu conosci le carte da gioco Simone? Simone, bene. Allora guarda bene Simone, queste sono carte con cui si gioca a scala 40, a brici e al mino, si possono mescolare in moltissimi modi. Questo è un miscuglio per esempio monoventaglio alla francese, questo è un miscuglio doppioventaglio cinese, questo qui per esempio si chiama miscuglio del monco perché si può fare con una mano sola, vedi così, a tre. Sì, poi c'è il famoso miscuglio all'americana volante, che è questo qui, poi c'è questo qui che è il famoso miscuglio mississibi. Tu dove sei? Io, di Savignano. Vuoi mescolare tu? Questo è un classico miscuglio savignanese da osteria, il ragazzo già frequenta bene. Bene, allora, cosa fai di prendere la vita? Studi? Che classe fai? Seconda media. Seconda media, allora, come sei andata in matematica? Bene? Bastante. Bene? Sai contare? Sì. Fino a quanto? Non si sa, eh? Allora, prendi le carte e me ne conti dieci, una alla volta qui sopra, parla forte così ti sento. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Io controllo perché non mi fido, ricontrolliamo. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove e dieci. Ecco, vieni qua. Tu invece che classe fai? Vai con le ascolse. Seconda. Prendi queste carte con tutte e due le manine, una manina qua, una manina qua, qualunque cosa accada resti così, che se viene il terremoto, te trovano così, fra due mila anni dice questa chissà che faceva, sta ferma, mi raccomando. Fissale e mi raccomando, ferma così. Tu che fai? Lavora, conta, dieci. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Controlliamo perché io se vido non fida, c'è l'aria troppo furba. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Complimenti, sai contare, devo dire che c'è una donna che conta. Tu come lei, vai, lavora anche tu, ferma così, mi raccomando. Vai. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Ecco, le altre carte, senza prendere niente, me le metti in tasca, grazie. Controlliamo, eh. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove e dieci. E queste le prendi tu, così. Bene. Adesso lo dico per voi che siete qui, voi che siete a casa, loro hanno dieci carte per uno. Io faccio una cosa folle. Prendo invisibilmente una carta, la vedi? Sì. Bene. La bambina ha già allucinazioni. Allora, dovresti passare dall'altra parte rispetto a lui, vai. No, no, sai qua, la non è questa qua. Allora, la carta invisibile che ho preso da te, una carta, la prendo e la metto fra le due. È arrivata, cara? No. La bambina non ha alluminazione. Prendo la seconda, questa la vedi? No. Io prendo questa carta e la metto qua. Prendo la terza carta, la vedi? No. Eppure guarda, io la prendo, la lancio in aria, questa gira, va su, bam, boom, ricasca qua. Allora, se io avessi tolto tre carte dalle tue, erano dieci, devono essere sette, giusto? Bene. Controlliamo, eh? Uno, due, tre, quattro, cinque, sei e sette. Natura, fermi, non fatelo, non fatelo. Guarda bene voi che siete qui la mia testa da casa. Conta. Io ne ho messe le tre, le ho messe qua, le due erano dieci, le ho messe tredici. Conta. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici. Dodici e tredici, non fa una piega. Ma adesso state attenti. Tredici più sette, quanto fa? Un consulto volete fare? Tre. Ventuno, come fa ventuno? Fa venti? Stai fermo tu là, che fai? Allora, tredici più sette fa venti, allora guarda, le prendete tutte e due in mano, una mano tua così. Qui tu, anche le tue così, fermi, mi raccomando, venti carte. Adesso, tu hai visto come ho fatto io prima, no? Ho preso invisibilmente una carta e l'ho lanciata là. Anzi, tieni solo tu le carte, vieni tu qua. Prendi invisibilmente una carta da lui, vai. Completamente pazza. La devi mettere fra le sue quella carta lì. Bene. Prendi la seconda, la metti là, grazie. Adesso la terza è quella più difficile, va lanciata in aria, deve fare un giro lassù e deve ricadere lì dentro. Vai. È caduta a terra, la raccogli, ce l'hai lì davanti a pieno. Prendi, la prendi. L'ho detto che c'ha allucinazione nella cassa. Che ridi, incosciente. Allora, tu hai preso tre carte invisibili da lui, le hai viste, le sei proprio sentite. No. Tu hai dieci carte, è vero? Conta qui, forte, uno alla volta. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. Te ne mancano tre. Tu hai venti carte, è vero? Conta. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici, quattordici, quindici, sedici, diciassette, diciotto, ciannove, venti, ventuno, ventidue, ventidue, ventidere. Regolare. Complimenti, siete stati bravissimi. Grazie, complimenti, scusa lo scherzo. Grazie anche a te. Grazie, complimenti. E tra i vari ospiti e i personaggi che hanno partecipato in quell'edizione troviamo Elisa e Cristian Giacomoni. Gloria, manchi tu nell'aria, manchi ad una mano, che lavora piano, manchi a questa bocca, che cibo più non tocca, è sempre questa storia, che lei la chiamo Gloria. Gloria. Gloria sui tuoi fianchi. La mattina nasci il sole. Nientro odio ed esce amore. Dall'uomo è Gloria. Gloria, Gloria. Manchi tu nell'aria. Gloria, manchi come sale. Gloria, manchi più del sole. Gloria. Sciogli questa neve che soffoca il mio petto, l'aspetto gloria. Gloria, perché accende il giorno e invece di dormire con la memoria torna a un tuffo nei papaveri, in una terra libera, per chi respira nebbia, per chi respira rabbia, per me che senza gloria, con te steso sul divano, faccio stelle di cartone, pensando a gloria. Gloria, gloria, manchi tu nell'aria, gloria, manchi come sale, gloria, manchi più del sole, gloria, sciogli questa neve che soffoca il mio petto, l'aspetto gloria. Gloria, gloria, l'aspetto gloria. Gloria, gloria, manchi tu nell'aria, gloria, manchi come sale, gloria, manchi più del sole, gloria. Scalto attento a far rumore, dall'amore, dal tuo letto, dai grandini di un altare, t'aspetto gloria. Gloria, gloria. Edizioni musicali Casa Dei Sonora, divertiti con l'allegria della nostra musica. Edizioni musicali Casa Dei Sonora, è una garanzia. Spartiti con i brani più belli firmati Casa Dei, polche, balser, mazzurche, assoli di clarinetto e sax, e tutti i ritmi internazionali più ballabili. CD, musicassette e DVD, per avere sempre a casa tua una grande festa. Edizioni musicali Casa Dei Sonora, la tradizione, l'attualità. Insomma, il cast era veramente importante, non l'abbiamo ricordato oggi nell'apertura della nostra puntata, però insomma c'erano Ila Pizzi, Moreno Cavallotti, Lamberto Liparini, Madame Moris, Matteo Monimi, Mirko Lvisi, tanti, tanti, tanti si sono susseguiti alternati. E tra queste appunto c'è l'esibizione adesso del nostro Moreno Cavallotti che ci farà ascoltare cara Laura. Una storia di polvere bianca Che sarebbe come tutte le altre ma che Non lo è Perché al centro ci sei tu Bell'importante in un mondo dove si sa La storia di tutti i giorni perché È toccato proprio a te Ma chi è che ti ha tradito e proprio tu hai pagato per chi continuerà il suo gioco senza te Sarai tu prima su tutti i giornali che faranno di te un mostro per lasciare in pace chi A che serve cara Laura Sbandierare le tue scelte per far colpo sulla gente Cominciamo a spazzar via Con la polvere che c'è Con la polvere che c'è nelle strade vendiamo le farmacia E vedrai E vedrai che quelli che hanno in mano il vero gioco non esisteranno più E saranno sempre meno quelli che vorranno con la polvere volare via Ma chi è che ti ha tradito e proprio tu hai pagato per chi continuerà il suo gioco senza te Sarai tu prima su tutti i giornali che faranno di te un mostro per lasciare in pace chi A che serve cara Laura Sbandierare le tue scelte per far colpo sulla gente Cominciamo a spazzar via Con la polvere che c'è nelle strade vendiamo le farmacia E vedrai che quelli che hanno in mano il vero gioco non esisteranno più E saranno sempre meno quelli che vorranno con la polvere volare via E vedrai che quelli che hanno in mano il vero gioco non esisteranno più E saranno sempre meno quelli che vorranno con la polvere volare via E ci fermiamo per qualche istante ma poi riprenderemo con tante belle canzoni per voi Centrale del Latte di Cesena È ricordabile anche sul sito centralelattecesena.it Dalla tua terra alla tua tavola Da 50 anni Latte, formaggi e gelati di Romagna Centrale del Latte di Cesena La bontà che lascia traccia E proseguiamo con la nostra seconda parte della puntata Con una grandissima formazione Sto parlando dell'orchestra Sangue Romagnolo Che ci fa ascoltare questa canzone per voi Che ci fa ascoltare questa canzone per voi Che ci fa ascoltare questa canzone per voi Oggi ci fa ascoltare questa canzone per voi Che ci fa ascoltare questa canzone per voi Aggiostre del trend Grino mole Grazie a tutti. 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 E per chi si fosse perso insomma la serata del centenario di Cerga e sta proviamo appunto una pillolina di quel momento. Guardate un po'. Dai con le mani così, con il braccio destro. Grazie a tutti. Ma che bella l'estate, vi diverto un po'. Ma che bella l'estate, quando nasce un amore, sulla riva del mare, con i sogni nel cuore. E per l'agosto. Primo amore. Io ti voglio baciare, io ti voglio baciare, io ti voglio baciare sulla riva del mare. E... 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 Ma che bella l'estate, quando nasce un amore, sulla riva del mare, con i sogni nel cuore. Ma che bella l'estate, quando nasce l'amore, sulla riva del mare, con i sogni nel cuore. Divertiti con l'allegria della musica dell'indimenticabile maestro, con i solisti che hanno fatto la storia. La grande festa è a casa tua! A secondo Casa Dei, con affetto. 27 brani interpretati dagli artisti della Romagna più amati e popolari. Richiedi subito il tuo cd, chiamalo 0541-945259 o scrivi a info-casadeisonora.it Balzer, mazzurche e polche per una meravigliosa occasione di divertimento e buon umore. A secondo Casa Dei, con affetto. L'amore per la nostra terra. Si sente, si ascolta, si balla. Eh sì, devo dire che veramente cerchiamo di accontentare tutti gli amici che ci seguono e quindi accontentiamo anche la splendida Vanessa che ci segue dal Belgio. Vane, grazie dei tuoi complimenti. E a lei e alla sua splendida famiglia e ai suoi amici voglio dedicare questa canzone di Gloria Gaynor I Will Survival per voi. E a lei e alla sua amici voglio dedicare questa canzone di Gloria Gaynor I Will Survival per voi. I Will Survival per voi. I Will Survival per voi. But now I hold my help high and you'll see me And somebody new I'm not that chained up little person still in love with you And so you felt like property in the desert that cut me to be free And now I'm saving all my loving for someone who's loving me Go down the door, go down the door Just turn around now, cause you're not welcome anymore Weren't you the one who tried to break me? And when it gets by, you think I've crumbled You think I've laid down and I don't know, not I I will survive Oh, as long as I know how to love, I know I'll still live I've got all my life to live and I've got all my love to give And I'll survive I will survive I will survive Oh! Oh! I will survive Oh! Oh! I will survive I know how to love, I know I'll still live I've got all my life to live and I've got all my love to give And I'll survive I will 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 survive Grazie per la visione 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 Grazie per la visione